esattamente in questo posto dove c'è il palazzo della regina delle streghe che è un dungeon vediamo se si riesce a farlo in solo se troviamo quantomeno l'entrata, l'ingresso dovrebbe essere sotto, non mi ricordo male ci sono un po' di gorilla vediamo se riusciamo a trovare l'ingresso che secondo me è qua, no dunque di qua forse no, di qua si esce mi ricordo era sotto da qualche parte beh intanto facciamo vedere questo posto qua a parte il fatto che dovrebbe essere qua dunque è bellissima questa giungla ha delle costruzioni oh c'è anche un bottino, oh vabbè niente di che oh c'è 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 un blastanio aia dai mi spiace ma eccola qua raggiù di qua devo spiegarmi che devo anche mangiare bene ah ma pieno ah ma pieno quindi dov'è ok allora bisognerebbe vedere se si riesce a prendere non la propria ok non questi ho gli strutturi davo anche le penne i fiumi eccole la ok volevo farmi un materascio al lettino per un caso dovevo dovessi crepare però poi qua con queste costruzioni qua non ti fa mettere giù la roba guarda un attimo allora spago spago ok facciamoli tutti ah lo devo comunque andare a bere vabbè vabbè qua è pieno di gorilla eh che mi manca ah altra non ti pensi a lui ah perchè sto ancora costruendo vado a prenderne altra qua facciamo vedere le costruzioni bello però qua piove sempre mi fa non lo farò mettere non so dove andare a metterlo questo questo non è il problema di stagione vabbè comunque ops proviamo a farlo qua quanto vediamo se mi ha fatto mi ha messo mi ha fatto allora vedendo giù c'è l'ingresso questo è l'ingresso il portone e che si entra dentro ok poi dunque il posto è favoloso lì c'è il mio corpo di prima allora queste ci sono tutte delle maschere in oro due statue in pietra con cui dovremmo combattere appena andremo un po' più avanti ecco questo indosso il braccialetto quindi se è mia nemica no ho sbagliato questi fanno veramente paura sono bellissime queste statue non fanno tanto danno non fanno tanto non fanno tanto non fanno tanto ok morto ovviamente i raggi verdi qui aia non fanno tanto ok chiama la seconda statue non fanno tanto mamma mia che paura no i raggi aia non volevo evitare i raggi se ne ho n altra tu non lo no ti aia ok, anche questo è morto ora la parte più difficile è uccidere la regina eccola qua ahia, che botte non devo ricaricarmi, ma non mi dà? ho pochissima vita a starlo ma dovrei provare delle pozzine più potenti non mi ricordo come si fa mi sono bloccata, non riesco a promuovermi ma perché? non funziona per mouse no non riesco a muovermi ma va oh, è toccato qualcosa ok giustiamo tutto allora, ho mandato una chiave no, adesso mi si è non so cosa era successo al mouse ho schiacciato la rotella forse dunque qua è una cosa bellissima perché è tutto in oro quindi andiamo al trono no, vabbè e qua c'è qualcosa ci dovrebbe essere qualcosa da aprire ho preso una chiave forse qua ah, ho imparato delle nuove ricette ecco, queste ricette sono molto importanti perché praticamente ti danno la possibilità di farti l'abito che aveva prima la strega ho già parlato, mi pare dunque da qualche parte ci dovrebbe essere una cassa o no c'era una chiave o qua dietro mi ricordo dove c'è e forse, boh, era soltanto il trono no, mi sarebbe soltanto il trono bene l'abito dovrebbe essere questo qua della strega va, no? allora, se avete delle domande da farmi potete scrivere nei commenti se volete sapere qualcosa in modo da poter fare altri video di videoguide, così o dei dubbi l'arma che ho usato è una delle più potenti che c'è è una lancia e questa qua impeccabile lancia ossidiana viene fatta con l'ossidiana va bene e anche per oggi abbiamo finito ricordatevi di iscrivervi al canale ok? Grazie.